A Teramo il consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Rapagnani torna a riaccendere i riflettori sui lavori e a suo dire fermi della ricostruzione dei 31 edifici di competenza ATER presenti sul territorio comunale danneggiati e resi inagibili del sisma del 2016, che prima del terremoto contavano più di 700 residenti, molti dei quali ancora oggi sfollati e divisi su circa 400 unità abitative. Guardi, sono sei anni e mezzo che ricorre il sisma del 2016, sei anni e mezzo che circa 700 persone si trovano a soffrire lontananza da casa, sono sei anni e mezzo che queste persone sono state sradicate dalla loro quotidianità, dalla loro routine e trapiantate in altre parti. La situazione più grave nel capoluogo di provincia si riscontra nel popoloso quartiere di Collaterrato, dove da anni si registra una condizione diventata via via sempre più difficile, in particolare negli edifici City nella zona di San Berardo e Via Roma. Soprattutto raccolgo anche le istanze di quegli esercenti che, vista la mancanza di persone, anche a Collaterrato, hanno visto un calo importante dei loro guadagni. Ma io li reputo eroi, li reputo eroi perché sono veramente delle persone che, nonostante tutto, riescono ancora a portare avanti la loro attività, per il bene della comunità tutta. Dall'ottobre del 2019 ad oggi non è stato fatto nessun intervento concreto. Noi abbiamo chiesto semplicemente dei tempi certi per dare voce a quelle persone che la voce non hanno. Quindi io mi faccio portatore di quegli interessi, di quelle persone che purtroppo oggi si trovano a pensare se e quando ritorneranno nelle proprie abitazioni. Immediata la replica da parte della Presidente dell'ATER Maria Ceci, che ha definito le dichiarazioni del consigliere Rapagnani una campagna elettorale per le prossime comunali. Inoltre rivendica all'ATER il merito di aver aperto in provincia numerosi cantieri e nel contempo acquistato nel comune di Teramo oltre 80 alloggi per la sistemazione delle famiglie colpite dal terremoto. Infine la Presidente definisce semplicistico, scorretto e anche vagamente autolesionistico il segnalare il calo dei residenti nel comune di Teramo, che certo non può essere ricondotto ai ritardi della ricostruzione ATER ma merita analisi più approfondite e anche politicamente più attente.